Buongiorno da Italia Zelanda 8 Delta Eco Papa, quest'oggi vi voglio presentare questo mio ultimo arrivo che è un microfono dinamico da podcast di fabbricazione americana, infatti come si può vedere qui c'è scritto Design in Austin, Texas, USA e questo microfono è un microfono della Lime Light, un'azienda americana, è il modello 512, questa mattina io l'ho provato collegandolo direttamente al mio 7300 e va molto molto bene, ripeto questo microfono si chiama 512 della Lime Light ed è un microfono che viene costruito negli Stati Uniti, questa mattina l'ho provato sul 7300 e va molto molto bene e lo consiglio vivamente perché poi con collegato direttamente alla radio un 7300 a un 7610 a un 7700 e un 7800 va, funziona molto molto bene, grazie a tutti da Italia Zelanda 8 Delta Eco Papa Alfredo, buona giornata a tutti, 73, qui si vede la scritta Design in Austin, Texas, USA, 73 da Italia Zelanda 8 Delta Eco Papa, ciao ciao a tutti. Ciao a tutti.